Ciao a tutti, sono Isabella di The Information Lab Italia. Nel video di oggi andremo a vedere una delle feature più interessanti di Snowflake, ovvero il time travel. Questa funzionalità consente di accedere ai dati storici, ovvero dati che sono stati modificati o cancellati in qualsiasi momento entro un periodo di tempo predefinito. Quindi nel caso avessimo commesso un errore, come può essere la cancellazione involontaria di un oggetto, sia questo uno schema, una vista oppure una tabella, possiamo facilmente recuperare e ripristinare questi dati tramite semplici queries SQL. Nella versione standard di Snowflake la finestra in cui si può viaggiare indietro nel tempo è di 24 ore, mentre nella versione Enterprise questa può arrivare fino ad un massimo appunto di 90 giorni. Si comprende come questo periodo di tempo sia effettivamente molto ampio perché ci consente di viaggiare indietro nel tempo fino a tre mesi e quindi recuperare dati in uno specifico momento in questo intervallo. La maggior parte dei data warehouse non offre al momento questa funzionalità, ma vediamo che con Snowflake è davvero molto semplice recuperare appunto dati persi o modificati. Tra le applicazioni che fornisce Snowflake troviamo appunto il ripristino di oggetti, come abbiamo menzionato prima, siano queste tabelle, schemas, databases che sono appunto stati cancellati. La duplicazione e il backup di dati da momenti specifici nel passato e l'analisi dell'utilizzo, quindi la data usage e la manipolazione dei dati in determinati periodi di tempo. Un primo esempio pratico che possiamo fare per testare la funzionalità del time travel è quella di fare il drop e l'undrop di una tabella, quindi ci spostiamo all'interno della nostra piattaforma di Snowflake e andremo a lavorare con quello che è il nostro weather data database, come potete vedere qui, usando lo schema public. Andiamo quindi a appunto utilizzare questo schemas e questa tabella, diamo il run, vediamo che l'operazione è stata conclusa con successo e a questo punto immaginiamo di, anzi andiamo proprio a vedere che cosa succede andando a fare il drop della nostra tabella appunto JSON weather data. A questo punto anche qui darò di nuovo un run, vediamo che la nostra tabella è stata eliminata e immaginiamo adesso di voler andare in realtà a selezionare il contenuto di questa tabella, anzi le prime dieci righe. Come possiamo immaginarci, Snowflake ci dà un errore come possiamo vedere qui in basso in rosso, proprio perché non riesce più a trovare la tabella che vogliamo andare ad interrogare. A questo punto, ed è qui che entra in gioco la funzione del time travel, possiamo andare con una semplice linea di codice a fare l'undrop appunto della nostra tabella per ripristinarla, quindi diamo nuovamente un run e vediamo che la nostra tabella è stata nuovamente ripristinata e la vediamo appunto qui. Un secondo esempio pratico è relativo al time travel, è quello relativo alla funzionalità del rollback table, letteralmente tornare indietro allo stato di una tabella. Questa funzionalità è specialmente utile quando si sono fatte delle modifiche e ci rendiamo conto di volere in realtà sistemare un errore commesso non voluto appunto nel momento delle modifiche apportate. Come prima cosa quindi ci assicureremo di settare il giusto contesto attraverso questi comandi e successivamente eseguire appositamente un comando sbagliato per sostituire tutti i nomi delle stazioni nella tabella con la parola appunto ups. Ci renderemo conto appunto di aver commesso un errore andando a selezionare appunto 20 rides dalla tabella trips e infine vorremmo in qualche modo tornare indietro allo stato precedente, quindi allo stato originario della nostra tabella con appunto questi due statements SQL che ci permettono appunto di sistemare l'errore commesso. Torniamo quindi indietro nella piattaforma di Snowflake, come prima cosa appunto setteremo il giusto contesto, andremo a creare intenzionalmente il nostro errore appunto dando questo nome ups alla nostra tabella trips, andremo a in qualche modo cercare di estrarre 20 trips, scusate 20 rides dalla tabella trips, ma accorgeremo appunto di aver commesso un errore perché invece di vedere 20 risultati vedremo semplicemente una riga. A questo punto vogliamo eseguire una queries che ci permetta di trovare l'id del nostro ultimo comando update e memorizzarlo in una variabile chiamata appunto query id in questo modo. Andiamo a dare il comando di run e successivamente andremo a ricreare la tabella trips prima del nostro comando sbagliato. E infine andremo a cercare di estrarre le nostre 20 rides in questo modo qui e vedremo che siamo in grado di appunto riottenere i risultati sperati. Normalmente ovviamente con altri data warehouse avremo bisogno di recuperare e di avere una versione di backup, invece tramite snowflake tutto ciò non è necessario in quanto basta semplicemente eseguire dei semplici comandi per appunto ripristinare lo stato originale della nostra tabella. Quindi se vi è piaciuto questo video vi invitiamo a mettere like al nostro video e fare comunque subscribe al nostro canale. Alla prossima!